covid-19 coronavirus presunta ribadisco presunta pandemia cerchiamo di capire se è iniziato ufficialmente l'era della biopolitica e nella biopolitica la politica in senso classico conterà ancora qualcosa tra l'altro e do il benvenuto a pier paolo dal monte chirurgo e saggista benvenuto per la prima volta al vaso di pandora grazie buon pomeriggio a tutti all'interno del nostro appuntamento quindicinale con paolo borgognone il mercoledì di paolo borgognone benvenuto ciao paolo ben ritrovato grazie a voi per avermi invitato storico scrittore e autore prossimamente presenteremo un il tuo nuovo libro che ormai è in stadio avanzato credo ma ci aggiorneremo in in seguito ecco pier paolo dal monte siamo in un periodo storico di crisi planetarie di governabilità crisi di governabilità sicuramente quantomeno nel mondo occidentale è una crisi di governabilità che viene definito caos sistemico ecco cosa significa caos sistemico e possiamo in qualche modo anche collocarlo in in una data simbolica di inizio beh diciamo che caos sistemico non è una definizione mia ma una definizione di giovanni arrighi che scrisse un libro piuttosto pregevole che si chiamava il lungo ventesimo secolo facendo un po il verso a obsborne che scrisse il secolo breve e lui parla di caos sistemico diciamo quando un ciclo di accumulazione capitalistica finisce ad esempio quando finì ciclo a egemonia inglese vi fu un periodo di caos sistemico che culminò con le due guerre mondiali e tutto quello che successe in mezzo adesso sembra che stia finendo l'egemonia americana diciamo il collo dell'egemonia americana o il lento declino dell'egemonia americana si può adattare fin dagli anni 80 e diciamo l'evento che ha forse più importante per questa interruzione del sistema di equilibrio interstatale che esisteva dopo la seconda guerra mondiale è stato probabilmente il collasso dei paesi comunisti diciamo prima vi era una spesa di equilibrio il mondo occidentale sotto l'egemonia americana i paesi dell'est o comunque quelli vicini al mondo comunista erano sotto l'egemonia dell'unione sovietica da allora vi è stato solo un paese gemone con un'egemonia in declino infatti cioè infatti non è non è conseguente da allora ma è dagli anni 80 che è cambiato proprio il sistema di governo il sistema politico delle nazioni occidentali fondamentalmente perché prima degli anni 80 i famosi 30 anni gloriosi con come li chiamavano i francesi dopo la seconda guerra mondiale hanno visto un forte impulso una forte crescita dovuta l'economia manufatturiera da allora vi è stata non solo una certa stagnazione ma anche una serie di crisi economiche subentranti le prime furono le crisi dovute all'aumento dei prezzi petrolifere degli anni 70 ma successivamente che ci sono state diverse crisi finanziarie nell 88 nel 2000 2001 poi quella del 2008 e ed è cambiato fondamentalmente la concezione politica cioè prima vi era una concezione politica per semplificare molto è fondata sulla dialettica tra viagolette della rotta di classe il conflitto capitale lavoro diciamo che ha avuto una sua sintesi nello stato sociale dei paesi europei fondamentalmente ma c'è un certo stato sociale anche negli stati uniti nel dopoguerra da allora la politica non si è più diciamo non si è più basata su questo tipo di dialettica ma è diventato una politica liberale c'erano i liberali un po più conservatori liberali un po più progressisti cioè le destre e le sinistre ma fondamentalmente è sempre stata la stessa minestra il problema di tutto questo e da qui la crisi di governabilità venendo a mancare il paese gemone o venendo a mancare l'egemonia del paese che si suppone gemone si inizia a creare un certo caos a livello globale geopolitico ma nei paesi occidentali nella fattispecie cioè in quelle che erano gli stati nazioni che adesso sono molto meno stati nazioni di un tempo le crisi economiche e l'austerità proclamata richiamata quelle che dicono i paesi viatuosi diciamo dal punto di vista del benessere delle condizioni di vita della popolazione non solo questa austerità non hanno portato ad un miglioramento ma non portato un progressivo peggioramento da qui diventa difficile governare il popolo secondo premesse sbagliate abbiamo visto che a partire dal 2016 vi sono state una serie di sorprese elettorali dalla brexit all'elezione di trump al referendum sulle riforme costituzionali in italia all'avvento di quelli che hanno chiamato con termini secondo loro dispensativo partiti populisti e in questo si inserisce la tendenza a governare con altri mezzi prima si governava col vincolo esterno dell'unione europea dei vincoli di bilancio del il vincolo esterno dei problemi economici diciamo a un certo punto secondo me quello non è stato più sufficiente e si è dovuto portare tirare in ballo le scienze biologiche non solo le scienze umane finora non bastava più evidentemente quindi si è dovuto fare un salto e con questo ecco diciamo che e con questo non è che alcuno di noi nega che il covid ci sia stato abbia causato un certo numero di morti che però non si sa assolutamente quanti siano perché come sappiamo è stata data la diagnosi di morte per covi da tanti di covi non sono morti però diciamo non neghiamo che questo ci sia e se qualcuno dovesse chiamarsi negazionisti si becca subito una querela perché un'accusa infamante e si riferisce a ben altri fatti storici insomma certo assolutamente e io direi che è da notare proprio da mettere in particolare in evidenza l'uso sistematico del suffisso istaismo no per proprio dare subito una collocazione negativa che richiama chiaramente fascismo nazismo eccetera eccetera ma anche complottismo anche complottismo naturalmente i complotti riusciti si chiamano storie i complotti non riusciti si chiamano complotti abortiti ma i complotti ci sono sempre stati se noi ci mettiamo d'accordo per fare una cosa l'insaputa degli altri cosa che è legittima è un piccolo complotto insomma assolutamente assolutamente paolo paolo borgognone ti senti di condividere questa pregevole sintesi di dal monte sì la condivido in pieno la condivido al cento per cento diciamo che dal 2016 appunto che c'è stato una una sorta di cambiamento di rotta no il 2016 abbiamo visto l'elezione di trump e prima ancora il referendum sulla brexit che aveva in qualche modo scalfito un dominio di elite liberali globaliste che sembrava inaffondabile e che sembrava inamovibile e irrevocabile questo dominio questa dominio che ormai a quanto pare non aveva più una egemonia perché poi alla fine l'egemonia è stata è stata spezzata è rimasto in qualche modo il dominio ma l'egemonia è stata spezzata da questi eventi elettorali di grande portata e di clamorosa importanza ecco questo dominio è stato in qualche modo messo in difficoltà e questo dominio è stato messo in difficoltà in una società che nel 2016 ancora si basava su un livello di consumi significativo diciamo così ancora medio medio alto per gli standard fino a quel momento conosciuti in qualche modo nella storia dell'umanità dei paesi che si sono in qualche modo rivoltati rispetto a queste elite liberal globaliste premiando un'alternativa nazional globalista sia nel caso della brexit sia nel caso di trump che comunque era interna questa questa alternativa scaturiva da un conflitto da una rottura interna a una elite dominante una rottura tra quelle che erano le classi oligarchiche legate al capitalismo industriale fordista keynesiano rispetto a quelle che invece erano le classi oligarchiche più legate al capitalismo finanziario e digitale ovvero i liberal globalisti ci sono interessi diversi approcci diversi nell'ambito di questo conflitto di classe tra oligarchia però in qualche modo una parte importante della 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 popolazione di stati uniti e gran bretania si rivoltò nell'ambito di una società che ancora considerava come cosa buona e giusta un livello di consumi mediamente elevato da parte delle sue fasce popolari e medie soprattutto oggi questo è cambiato all'alba di una nuova fase del capitalismo perlomeno così occidentale diciamo ma in prospettiva anche globale però soprattutto occidentale quel capitano occidentale sarà connotato da questo tipo di approccio nei prossimi anni ecco il livello di consumi della classe e popolare medi ma soprattutto della classe media il livello alto medio alto che era stato garantito in qualche modo era stato anche incentivato in qualche modo negli anni passati non è più sostenibile ad esempio il fenomeno greta thunberg a mio parere è stato anche incentivato e sovraesposto dal punto di vista mediatico proprio per preparare la strada tipo di trasformazione radicale del capitalismo dunque degli stili di vita della maggioranza delle popolazioni in occidente e fino a quel momento si era tentato sto parlando del 2016 si era pensato che le popolazioni occidentali potessero rimanere docili rispetto a quelli che erano i desiderata le esigenze le aspettative la volontà delle elite attraverso l'elargizione a prezzi piuttosto contenuti o comunque accessibili a tutti previo un po' di indebitamento privato di una vasta gamma di circenses e infatti nel 2016 la brexit per esempio il referendum sulla brexit è stato caratterizzato da una dicotomia creata dai media e dai ceti politici in quel momento tra i sostenitori della permanenza del regno unito nell'unione europea che erano definiti coloro i quali amavano la mobilità i consumi i consumi globalizzati ovviamente le mode e che amavano anche dedicarsi a vivere secondo un tono così esistenziale abbastanza alla pace mentre invece gli oppositori della permanenza della gran betagna nel regno unito cioè i fautori della brexit erano considerati quelli che si muovevano poco che avevano radici più solide nelle realtà di provincia in cui abitavano e che erano poco avvezzi a dedicarsi ai consumi modaioli bene questa dicotomia ormai è tramontata perché oggi quattro anni dopo si è visto che la docilità delle classi medio basse non è garantita dall'accesso alla società dei consumi o meglio lo è stata fino a un certo punto queste classi medio basse si sono permesse proprio perché inserite in un contesto che garantiva loro un certo standard di consumi e dunque di benessere hanno pensato si sono azzardate a poter percepirsi come padrone del proprio destino anche dal punto di vista elettorale e hanno pensato di poter scegliere realmente da chi essere amministrate nel senso il ragionamento è stato questo se queste elite sono così buone tra virgolette che ci danno i circenses ebbene saranno così buone da farci anche decidere da chi essere amministrati e allora ecco il voto in libertà per trump e la brexit ebbene le elite uscite sconfitte da questo confronto oggi hanno perfettamente capito l'insostenibilità e di fatto la mancanza di efficacia di un sistema di controllo sociale basato sulla distribuzione a prezzi piuttosto contenuti di una vasta gamma di divertimenti e hanno invertito la rotta oggi il popolo si tiene a bada attraverso politiche di confinamento e politiche tese a disincentivare e ad abbassare i livelli di consumo di quelli che erano le classi medie per cui il consenso o perlomeno la docilità non tanto il consenso ma quanto la docilità poi può esserci anche in questo ci possono anche la paura crea anche consenso e la miseria crea anche consenso tanto ma la docilità di determinate classi sociali è stata raggiunta viene perseguita attraverso politiche completamente diverse da quelle che erano in vogue nel 2016 cioè politiche ispirate al criterio che nega completamente visto che siamo in tema di negazionismo nega completamente quelle che erano state le modalità e revoca e ribalta completamente quelle che erano state le modalità per ottenere la cosiddetta pace sociale cioè il fatto che le elite potessero fare quel che volevano fino al 2016 certo e quindi c'è stato proprio un cambio di paradigma a proposito di paradigmi ci si sta spostando su quelli che Foucault definì paradigmi biopolitici che cosa si intende per biopolitica dal monte? allora si intende il fatto collegandosi anche a quello che si diceva prima che si fa che si ottiene una governamentalità secondo altri mezzi ecco una delle cose che non poteva essere fatta nel mondo occidentale era abolire le ritualità della democrazia cioè non si poteva più dire il popolo non va più a votare quello che si doveva fare era che il popolo non si andasse a votare ma votasse per scelte alternative che fossero più o meno indifferenti all'andamento normale delle cose se visto che questo non era più sufficiente perché non è neanche tanto il livello di consumi è il problema proprio che avendo deindustrializzato i paesi occidentali la gente fa proprio fatica a tirare avanti a fine del mese parliamo di qualcosa di molto meno dei consumi e la governamentalità secondo criteri biopolitici è una governamentalità secondo criteri che non sono più politici all'inizio erano economici vi ricordate Monti che è stato chiamato il governo degli esperti adesso viene chiamato in ballo la biologia, la salute la biopolitica è tutto ciò che governa la vita della popolazione e non del popolo il popolo è un'entità politica una popolazione è un'entità numerico-biologica una popolazione che sia umana o che sia di bovini viene governata secondo gli stessi mezzi la biopolitica è governare la popolazione secondo criteri che sono biologici e non politici secondo criteri che hanno a che fare direttamente con la nuda vita cioè la nuda vita è la vita non qualificata ogni essere vivente vive secondo una vita ma anche una vita individuale ecco la vita cioè la sopravvivenza di ogni essere vivente è il criterio che è adottato nella biopolitica questa operazione si va di bene faccio un piccolo inciso c'è un libro di qualche anno fa di un autore molto interessante tal Philip Mirowski che scrisse un libro che si intitolava Never let a serious crisis go to waste cioè non lasciare mai che una bella crisi vada sprecata e non lasciare mai che una bella pandemia vada sprecata perché diciamo tante delle cose che si sono fatte tante delle misure che si sono adottate sono assolutamente assurde faccio un esempio all'inizio l'OMS minimizzava cioè la chiamata addirittura infodemia furono loro i primi fra virgolette negazionisti il nostro governo ha dichiarato uno stato d'emergenza il 31 gennaio 2020 di quest'anno e se tu dichiari uno stato d'emergenza evidentemente consideri l'emergenza una situazione oggettiva perché non puoi dichiarare uno stato d'emergenza dire sì però non c'è davvero però nel caso ci sia la facciamo con stato d'emergenza vuol dire stato d'emergenza ebbene fino a che non è scoppiato il bubone di Codogno non è stato fatto assolutamente nulla anzi c'è qualche sublime politico che ha iniziato a lanciargli slogan abbraccio un cinese c'era qualche sublime consulente del ministero della salute che diceva non c'è evidenza scientifica per bloccare i voli dalla Cina non si capisce come questa evidenza scientifica avrebbe dovuto manifestarsi ci sono stati gli aperitivi a Milano e queste cose qua dopo poi è scoppiato il bubone e a quel punto pareva brutto non approfittarne si è governato a suon di atti amministrativi perché un decreto del presidente del consiglio non ha maggiore valenza sono state scatenate le forze dell'ordine facendo multe che poi per chiunque abbia fatto ricorso sono state cancellate e si è instillata la paura nella popolazione anche adesso nelle notizie dei giornali non vedrete mai che c'è pochissima gente ricoverata in reanimazione o pochissima gente ricoverata con sintomi gravi vedete sempre il numero dei contagi che in sé significa poco o niente insomma chiaro per cui è molto più facile governare la popolazione così si sono ottenute tutta una serie di cose intanto si è distrutta la vita comunitaria cioè si è ottenuto il telelavoro e noi ricordiamoci che gli scioperi nelle fabbriche e le manifestazioni avvenivano perché la gente entrava a contatto realmente si è distrutta la possibilità di assembramenti ma anche assemblee convegni e tutte queste cose qua per cui si è distrutta anche la possibilità di discutere realmente fra persone entrare in contatto l'interazione reale più tante altre cosette che servono per confinare la popolazione nella loro casetta il telelavoro la didattica a distanza e queste cose qua non dimentichiamo che per influenzare la popolazione la popolazione si influenza secondo mezzi centralizzati all'inizio erano radio e televisione adesso sono anche i vari mezzi a disposizione su internet cioè tu puoi influenzare la popolazione anche se questa è chiusa in casa perché entri nelle loro case le possibilità di dibattito ed eventuale resistenza ed eventuale contestazione alle politiche della popolazione si manifesta invece solo col contatto reale cioè fai fatica se tu non disponi del controllo centralizzato dei mezzi fai fatica a influenzare noi lo possiamo un po' fare con queste cose qua ma rimane comunque un exploit non è che da questa trasmissione dopo creeremo delle assemblee delle mobilitazioni che era uno dei mezzi di lotta politica dei tempi passati insomma e tu controlli la popolazione semplicemente con questi mezzi biologici il vincolo esterno invece che essere diventato economico come era con Monti o come era con i parametri dell'Unione Europea adesso è dato da quello che viene raccontato delle epidemie del virus cioè non dimentichiamoci che noi abbiamo avuto quelle che io chiamo cubiste della pseudoscienza tanti epidemiologi microbiologi e così che hanno blatterato le loro fesserie e solo loro ha consentito blatterare determinate fesserie ad altri no cioè altri che hanno detto altre cose sono stati attaccati furiosamente soprattutto dottore dal monte sono imperversati in questi mesi qui i virologi gli infettivologi guarda caso i biologi invece ma no non è questione di biologi è questione che sono imperversati quelli che hanno voluto fare imperversare qualsiasi cosa anche gli economisti non è che chiamassero tutti gli economisti chiamavano quelli che raccontavano una determinata storiella non chiamavano tutti così come non chiamano tutti anzi hanno coniato apposta lo stigma del negazionismo per impedire la gente di parlare tu semplicemente hai recintato tutta la gente in casa e anche la questione dell'elite diciamo in quello che è avvenuto dal 2016 in avanti alcuni hanno capito che la situazione era piuttosto ingovernabile se tu in un posto come gli Stati Uniti dove esistono più di 250 milizie che sono contro lo Stato Federale sono tutti armati fino ai denti se la popolazione si rivolta diventa difficile da controllare diciamo che nella storia degli ultimi secoli ciò che i regnanti i governanti temevano di più era la rivolta della popolazione per il pane per cui cercavano di governare in modo che questo non si verificasse la biopolitica serve a che io poi chiamo zootecnia che è etimologicamente più corretto insomma tant'è che hanno chiamato anche nel veterinario a far da esperto nelle varie trasmissioni però tu devi governare il popolo come se governassi un greggio una mandria certo infatti esiste un'epidemia e tu ti comporti secondo criteri biologici non ti comporti ovviamente se tu hai a che fare con una mandria di animali non puoi comportarti secondo criteri politici ma devi comportarti secondo criteri biologici o epidemiologici ed è quello che stai facendo praticamente certo difatti però diciamo dietro tutto questo stanno allocando le risorse assolutamente come vogliono loro insomma cioè con la scusa del covid stanno avvenendo degli spostamenti di denaro che sono assolutamente ben controllati insomma ed è quello che diciamo quando tu hai una crisi del capitalismo dove tu fai fatica ad assicurare un certo profitto con l'attività manufatturiere a un certo punto cerchi di trasformare tutto in finanza ma cerchi anche di aspirare la ricchezza lì dove si era accumulata è un fenomeno che David Harvey chiamò accumulazione per espropriazione cioè le famose privatizzazioni non sono altro che questo ma la finanzializzazione vuol dire che tu secondo diciamo col gioco della finanza tu crei dei mezzi monetari virtuali ma questi mezzi monetari virtuali danno diritto ad acquistare delle cose del mondo reale per cui certo se virtualmente il patrimonio Jeff Bezos raddoppia in pochi mesi lui può compare il doppio delle cose non è che sia tutto finto se lui a un certo punto decide con quei soldi di materializzarli lui lo può fare e valgono il doppio rispetto a prima certo quindi c'è una differenza chiaramente di arricchimento di impoverimento che è diciamo sproporzionata e comunque all'ennesima chiamiamolo così all'ennesima potenza prima aveva evocato tra l'altro Mario Monti che sembra entrerà chiamiamolo in qualche modo nell'organigramma dell'organizzazione mondiale della sanità Paolo Borgognone ti stupisce questa cosa? è come fare entrare il lupo a guardia del greggio sì per cui è una scelta che non mi sorprende perché nei regimi di democrazia liberale i lupi stanno a guardia del greggio assolutamente altrimenti non sarebbero regimi basati sull'autogoverno dei ceti proprietari dei ceti oligarchici e per arrivare all'autogoverno dei ceti oligarchici occorre che i rappresentanti di questi ceti siano messi in qualche modo a guardia di coloro i quali potrebbero anche riservare qualche brutta sorpresa e qui è uguale l'OMS non è un'agenzia pubblica sostanzialmente un'agenzia semiprivata il suo secondo più importante contributore mondiale è un privato la fondazione Gates che controlla visto che gli Stati Uniti si sono sfilati adesso è il primo sì infatti è di fatto è il primo e poi un altro contributore importantissimo è Gavi Allianz che fa capo anche questa al magnate Bill Gates descritto dai media italiani come un filantropo cioè come uno che devolve importanti somme di denaro a scopo completamente disinteressato per aiutare il prossimo Paolo anche il governo anche il governo conta i mesi scorsi no? accennato giusto per puro dovere di cronaca da TV e giornali ma appena accennato e poi sparito subito ha dato in questa gravissima crisi in cui si dibatte l'Italia ha dato una una grandissima donazione alla Gavi Allianz no? Ma perché noi qui mettiamo appunto i lupi a guardia del gregge e poi chiamiamo i lupi filantropi cioè dipende sempre da chi chi è che dà i nomi alle cose e chi detta in qualche modo l'agenda delle priorità e delle opinioni e dei fatti e l'agenda delle priorità è completamente in mano al mainstream per cui è ovvio che Bill Gates ci venga presentato come un signore disinteressato sobrio che investe importanti somme di denaro per il bene della povera gente secondo me questa è una narrativa di comodo eppure chi la mette in discussione viene tacciato dei peggiori epiteti viene addirittura espulso dal dibattito pubblico anzi viene completamente ridicolizzato o ignorato e dunque di fatto gli si concentra contro un fuoco di fila oppure viene ignorato e parla al vento l'ideologia ufficiale in questo senso viene anche rafforzata la pandemia è stata anche più che altro la gestione non la pandemia ma la gestione politico e mediatica la gestione biopolitica dell'emergenza è stata anche un pretesto in qualche modo un veicolo per riportare riportare nell'ordine riportare all'interno dell'ordine liberale quelle forze politiche che nei mesi negli anni scorsi attraverso l'etichetta populisti più o meno se ne erano distanziate oggi ad esempio voci nel panorama politico italiano di contestazione rispetto a quello che è l'ordine sociale dominante oppure i moduli di compatibilità finanziaria e il sistema della moneta unica non ve ne sono non ce ne sono più all'interno di quello che è il quadro politico italiano di sistema più o meno strumentalmente in maniera più o meno interessata in maniera più o meno contraddittoria vi era stata o è anche in maniera un po' così confacente a quelli che erano poi gli obiettivi di un sistema che vuole raccogliere più dissenso possibile e rimettere poi questo dissenso nel perimetro delle logiche dominanti però qualche voce si era sollevata avevamo avuto anche una esperienza di governo sebbene contraddittoria limitata ma non completamente allineata ai vincoli e ai dogmi dominanti per cui c'era stata in qualche modo una pulsione alla rottura o perlomeno alla discussione si era aperto un dibattito pubblico che aveva anche coinvolto numerose numerose persone bene adesso con la scusa del fatto che siamo tutti in regime di confinamento distanziamento e le priorità sarebbero altre di certi argomenti non si parla più anzi quelle forze che prima ne parlavano più o meno strumentalmente sto dicendo non sto facendo il santino di nessuno oggi si sono completamente allineate anche nella narrativa a quella che è il pensiero unico il dogma certo e il covid può essere considerato quindi uno strumento della biopolitica dal monte beh diciamo come è stato utilizzato certo sì è un metodo di governo è un metodo di governo sì come un metodo di governo e però diciamo anche chiamiamole le liti per comodità di per comodità di discorso usiamo questa sineddo che il problema è che non si riesce a controllare sistemi che sono molto 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 complessi tu lo controlli con i media tu lo controlli con determinate cose ma non riesci a controllare tutto cioè tu non sai cosa succederà alla fine di tutto questo anche perché noi viviamo in un mondo che è determinato secondo parametri economici e tanti di questi parametri economici stanno completamente saltando con la questione del covid insomma ci sono delle cose che solo per usare alcuni esempi il traffico aereo è diminuito del 66% rispetto ai primi dell'anno che vuol dire o fallimenti a catena delle linee aeree o interventi massicci da parte dello Stato lo Stato sto parlando dello Stato italiano ma tutti gli Stati vincoli di bilancio e queste cose qua a un certo punto faranno saltare determinati parametri se lo Stato deve intervenire massicciamente per cui diciamo io la vedo in maniera un po' diversa cioè noi viviamo in un'epoca di transizione di fortissima transizione politica cioè un'epoca che si è aperta praticamente negli anni 80 ma pian piano ha manifestato sempre maggiori criticità noi viviamo in un'epoca di forte transizione e secondo me non è ancora il momento nel quale vi possono essere forze politiche che si rendono conto precisamente di quello che sta accadendo davvero cioè non è ancora il momento di un cambiamento politico radicale probabilmente ci sarà seguendo una determinata traiettoria però adesso ancora presto quando potrebbe avvenire questo cambiamento questo dovrebbe essere il mago Telma per risponderti ma diciamo adesso c'è una possiamo ipotizzarlo lasciamo stare il mago lasciamo stare il mago Telma no magari non credo che sia ma possiamo farla una previsione si sente di farla una previsione a livello del Stico Dal Monte no a livello a questo livello no diciamo c'è una lotta in corso fra due tendenze che è quella globalista cioè che vuole tendere verso un governo mondiale che non è un governo secondo forme politiche ma è un governo ma è una governamentalità che secondo gli intenti dovrebbe essere esercitata de facto anche se non dei uri da alcune entità tipo World Economic Forum tipo le grandi entità economico-finanziarie e diciamo questa tendenza sta anche resistendo credendo di poter continuare l'egemonia americana in un mondo che diventa però globalista diciamo sarebbe una tendenza di governo mondiale in qualche modo guida culturale americana e c'è una tendenza che potremmo chiamare multipolarista che si rende conto che non ha più senso oppure non è possibile continuare la traiettoria del mondo in un certo modo e diciamo tende a ripristinare un po' più la struttura degli stati nazioni quantomeno del sistema di leggi che ha reso possibile tutta la politica del dopoguerra perché la politica del dopoguerra non sarebbe stata possibile se non all'interno di stati e nazioni con dei confini quantomeno legali bisogna vedere che cosa prevalrà certo è che ci sarà da aspettarsi un periodo abbastanza turbolento turbolento e comunque in piena fase di transizione lo stiamo vedendo anche nelle varie turbolenze che stanno avvenendo anche a livello geopolitico in Medio Oriente nel Caucaso e in vari altri posti insomma questi sono tutti sintomi di una scarsa governabilità a livello globale anche perché le istituzioni tipo l'ONU e queste cose qua ormai sono diventate delle scatole vuote insomma scatole che proclama è molto più efficace ed efficiente dell'OMS dell'ONU in questo momento dal punto di vista della governamentalità e non sto dicendo dal punto di vista medico certo si parla di un secondo lockdown non solo in Italia ma anche in altri paesi in vari paesi altri paesi si sta forzando tra l'altro un prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 dicembre ecco Paolo Paolo Borgognone secondo te verranno attuati questi lockdown in Italia e in altri paesi ma secondo me se ci sarà un nuovo lockdown non sarà più come il primo non sarà un confinamento generalizzato di gran parte della popolazione sana formalmente di tutto poi sappiamo che alla fine determinati classi sociali continuano a fare cosa vogliono e muoversi come vogliono anche in lockdown ma comunque formalmente di tutti no non sarà così ci sarà una diversa modalità sarà più simile a mio avviso al proibizionismo americano degli anni venti ovvero saranno chiusi i divertimenti saranno chiusi i divertimenti e le gli spazi in qualche modo dedicati alla socialità comunemente intesa alla convivialità e allo svago perché anche complice il clima chiaramente più freddo e le meno ore di luce che caratterizzano il tunnel inverno la popolazione dovrà essere presa per stress e dovrà vivere sostanzialmente una vita in cui è possibile sarà possibile in questi mesi non so andare a fare la spesa al discount acquistare appunto generi di prima necessità eccetera eccetera ma anche recarsi nei negozi aperti e magari recarsi anche fare una passeggiata ma da soli da soli perché si vuole andare verso forme di società corpuscolare in una società corpuscolare o società arcipelago chiaramente i problemi il disagio psicologico aumenta esponenzialmente oggi siamo già al 32% di italiani che soffrono di disturbi mentali rispetto all'8,5% della della situazione pre-covid per cui aumentata in sei mesi il disagio la fragilità mentale è aumentata moltissimo e poi se tu riesci a ottenere in qualche modo una cattività senza rinchiudere completamente ma riesci a ottenerla sul piano emotivo psicologico attraverso una serie di politiche di gestione di questo caos sistemico un metodo di governo del caos sistemico che arriva a rendere la popolazione tutta più docile rincoglionita tramite una martellante campagna mediatica di terrorismo che invita la popolazione a rimanere in casa comunque a non socializzare a rimanere a distanza a indossare dispositivi di protezione individuale che poi alla fine proteggono ben poco e dall'altro canto riesci a realizzare appunto queste forme di società corpuscolare che si inverano in un clima di pesantezza di controllo sociale avvertito di paura e di diffidenza reciproca ebbene questo metodo di governo del caos sistemico raggiunge quegli obiettivi di riformulazione complessiva del tessuto economico sociale di un intero paese e dunque va incontro a quelle aspettative alle aspettative di quelle elite le abbiamo chiamate così per comodità ma di quelle fasce così diciamo che controllano che hanno la proprietà anche dei nuovi mezzi di produzione ebbene esattamente si riesce a raggiungere quegli obiettivi e si riesce a farlo anche legittimandosi dicendo guardate questa volta non vi abbiamo richiusi in casa voi potevate di fare tutto però chiaramente lo si poteva fare tutto tra virgolette in un clima di paura e di diffidenza generalizzate dunque di fatto in un clima che aumenta il disagio psicologico e la docilità certo quindi diciamo un divertimento che non presuppone più la socialità quindi in luoghi pubblici o in luoghi di aggregazione ma è proprio vietato il buon umore cioè sarà vietato il buon umore bisognerà essere molto molto simili di fatto a degli esseri perennemente contritti spaventati perché una popolazione tenuta per lungo tempo in stato di depressione delusione cattivo umore eccetera eccetera è più dominabile sviluppa un senso molto limitato di resilienza ed è assolutamente controllabile soprattutto quando si tratta di una popolazione già composta in larga parte da soggetti anziani perché sappiamo che il pilastro demografico dell'Italia sono gli anziani in questo momento per cui è così sostanzialmente arriva a una ridefinizione complessiva e si arriva anche al fatto che più si è appunto depressi di malumore e anche limitati negli spostamenti e dunque impossibilitati ad accedere alla luce del sole a metabolizzare la vitamina D eccetera e più si è immunodepressi e dunque è più facile contrarre i virus non solo i padroni del discorso mi viene a pensare in questi ultimi passaggi che stavi facendo Paolo Borgognone i padroni del discorso la chiameranno una nuova sobrietà giusto per sviare diciamo le indagini e per falsare la percezione volevo chiederle dimmi Paolo un nuovo bonton una nuova educazione una nuova educazione una nuova sobrietà un nuovo senso civico ecco sì certo Dalmonte secondo secondo te lockdown arriverà un secondo lockdown ma io non credo perché diciamo bisogna stare anche attenti a fare queste cose perché tu metti in discussione la riproduzione materiale vero se tu blocchi tutto nuovamente già hai bloccato tutto una volta è stato abbastanza critico tu metti in discussione proprio la possibilità di essere forniti di beni e di merci dall'agricoltura alla distribuzione delle merci non dimentichiamo che questo il problema covid unito ai problemi degli incendi negli Stati Uniti ha causato già un calo della produzione alimentare non devono arrivare al punto in cui ci sono i supermercati vuoti per farla molto semplice se tu inizi a bloccare tutto inizi a bloccare le fabbriche la gente non ha soldi e va bene ma se inizia anche a bloccarsi se inizia anche a bloccarsi la trasmissione della materia diventa un problema abbastanza serio non dimentichiamo ad esempio che col calo dei prezzi petrolifici vi è un'insostenibilità finanziaria di alcuni Stati che si basano su quel tipo di risorse cioè tutti i paesi del Medio Oriente dall'Arabia Saudita agli Emirati a varie cose la stessa Russia lo stesso Iran per cui diciamo tu rischi di causare delle crisi a catena che per la fine non riesci a controllare più dopo veramente hai le rivolte per il pane perché se non trovo il cibo me ne frego se i due vigili mi fanno la multa anzi se provano a farmi rischiano anche qualcosina capito per cui diciamo non devono arrivare al punto in cui si rompono quei tenui equilibri che ci sono ancora e il problema è che data l'inerzia del sistema e data la complessità del sistema tu rischi di cadere dall'altra parte che ha un caos molto peggiore di quello che c'è adesso quasi senza accorgertene capito diciamo quando c'era il lockdown c'erano i piani speciali per le centrali nucleari francesi nei quali se vi erano dei contagiati questi non potevano più uscire di lì perché non potevano mandarci altra gente e questi non poter e comunque dovevano essere controllati cioè ci sono delle strutture che devono essere comunque sempre controllate la distribuzione dell'energia ma anche la stessa distribuzione del cibo è una cosa abbastanza complessa perché non è che al giorno d'oggi il cibo viene dalla vicinanza è una struttura estremamente complessa ti lascio ecco Paolo siamo in chiusura ti lascio il commento finale la chiosa finale grazie no non penso che si bloccherà proprio la produzione materiale penso che si bloccherà quello che viene considerato il superfluo certamente una fetta consistente di economia ma penso che se si dovesse e io la certezza non ce l'ho ma se si dovessero attuare nuove forme di chiusura questa volta sarebbero più selettive più mirate rispetto alla prima chiamiamole più raffinate quasi in un certo senso la prima è stata solana è stata proprio andrebbero a bloccare tutto quello che riguarda la vita comunitaria e appunto ciò che è legato agli aspetti ludici della vita comunitaria certo ci sarà un'evoluzione del marketing diciamo del lockdown ci saranno nuove terminologie come avete detto un nuovo montón non sobrino quello che tu facevi precedentemente con gli altri a livello comunitario di interazione reale sarai costretto a farlo individuale su messenger piuttosto che su una videochiamata eccetera eccetera certo quindi anche grandi investimenti sempre maggiori investimenti nei media televisivi per fare queste cheer chances ad uso individuale ovviamente senza che ci sia l'interazione e la socialità un trasferimento della vita comunitaria nella dimensione digitale ecco sì esatto diciamo che una ciosa di Dalmonte ci sono delle traiettorie che una senz'altro è quella perché diciamo è un'agenda presente da tanto ma tante delle cose che sono state fatte sono la mossa della disperazione cioè come in una partita di calcio uno lancia la palla in calcio secondo me molto è stato gestito in questo modo qua non bisogna neanche pensare che costoro siano in grado di prevedere tutto abbiano dei disegni particolarmente raffinati per cui diciamo uno può aspettarsi anche delle mosse che poi ti scatenano in calcio vero perché non sono state adeguatamente calcolate cioè così come è stata gestita l'emergenza qua dopo la proclamazione dello stato d'emergenza così può essere gestito anche tutto il resto insomma io credo io credo che tutto sommato si debba giusto per concludere si debba anche auspicarla questa calcoli malfatti perché altrimenti se hanno tutto pianificato alla perfezione non è possibile semplicemente non è possibile il sistema è troppo complesso non riesci e su quello dobbiamo confidare ovviamente sulla sulla fallibilità del sistema siamo in chiusura io ringrazio molto per il prezioso contributo Pierpaolo Dalmonte chirurgo e sergista ci avviciniamo ci prepariamo sicuramente a un inverno direi a questo punto complice appunto il clima freddo e le giornate brevi a un inverno abbastanza di solitudine tutto sommato però confidiamo come avevo detto poco fa nelle falle di questo sistema nelle falle di questo sistema grazie a Paolo Borgognone storico scrittore autore lo ricordo ancora una volta anche se ormai il pubblico del vaso di Pandora è una figura estremamente familiare diventata estremamente familiare oltre che apprezzato grazie a presto a voi